Buona giornata, mercoledì 30 agosto. Siamo sempre nella ventunesima settimana del Tempo Ordinario e oggi ascolteremo i guai di Gesù, il sesto e il settimo. Fra l'altro il numero sette è la perfezione, quindi Gesù non lo ha scelto a caso, voleva riassumere tutto quello dietro al quale noi ci facciamo giusti e non lo siamo. Preghiamo, ci aiuti Sant'Agostino con la sua parola a pregare. Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di Sapienza, donami lo sguardo e l'udito interiore. Vieni, Spirito dell'amore, riversa sempre più la carità nel mio cuore. Vieni in me, Spirito di Verità, concedimi di pervenire alla conoscenza della verità in tutta la sua pienezza. Vieni in me, Spirito Santo, acqua viva che zampilla per la vita eterna. Fammi la grazia di giungere a contemplare il volto del Padre. Amen. Dal Vangelo di Matteo leggiamo, sempre dal capitolo 23, i versetti 27-32. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti e dite, Se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro di voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. Questo è un discorso severissimo di Gesù e anche molto spiacevole. Una similitudine che nessuno di noi vorrebbe sentire. Paragonare scribi e farisei, sempre chiamati comunque ipocriti, cioè falsi, paragonare addirittura dei sepolcri. Sepolcri che hanno questa caratteristica dell'essere belli fuori, perché devono essere gradevoli a chi li guarda. Ma sappiamo bene che dentro sta avvenendo qualcosa che nessuno vorrebbe vedere. Dunque, ci riguarda tutto questo. Direi estremamente di sì, soprattutto oggi, che viviamo nella società, si dice, della pervenza, dell'immagine, dell'esteriorità. Esteriorità, fra l'altro, ingannevole. Contrasti coperti da una falsa gioia anche. Gesù non è un esteta. Non è uno che ha paura di vedere il brutto. Gesù è il più bello tra i figli dell'uomo. Ma non fa mai commenti sull'aspetto fisico delle persone. Casomai ha curato le persone, le persone malate, storpie, inferme, ha ridato vita, ridato esistenza, gioia. E sempre ha perdonato il peccato e incoraggiato a camminare di più. Questa è la vera bellezza della persona. Ogni essere umano è portatore di una bellezza che va oltre l'aspetto esteriore fisico. Ed è memoria di quell'alito di Dio spirato sulla creta di quello che è diventato il primo uomo. Dio spirò l'alito di vita e quella creta divenne Adamo. E Adamo trasse Eva. Noi siamo i portatori della immagine stessa di Dio. Non c'è bellezza più grande. E questo vale per ogni persona. Questo basta a riscattare ogni persona umana dalla sua pochezza, dalla sua mediocrità, perfino dalla sua cattiveria, dalla sua bruttezza. perché Dio non rinuncia mai a nessuno dei suoi figli per brutto che sia. A chi direbbe oggi Gesù sei un'ipocrita? Sei una maschera, una finzione? Io credo che tutti noi possiamo sapere di avere questa tentazione del farci belli anche quando sappiamo bene di non esserlo, di non saper chiamare per nome le nostre piccolezze o povertà. Oggi si dice che occorre autostima. Certamente è importantissimo che ognuno sappia il suo valore. Però domandiamoci da dove attingiamo noi l'autostima? Siamo noi stessi la misura della stima che vorremmo che gli altri ci attribuissero e che noi ci attribuiamo? Oggi forse è difficile dire che cosa voglia dire davvero un'autostima onesta o anche se le persone hanno stima le une delle altre. Piuttosto una grave responsabilità incombe sul mondo, sempre sul mondo adulto, sul mondo degli educatori ed è l'incuria nei confronti della bellezza interiore dei piccoli, dei bambini, dei ragazzi, dei giovani. Nel senso che i ragazzi hanno bisogno di sapere di essere portatori di un mondo interiore unico, irrepetibile e che ha bisogno di essere portato alla luce dalla persona stessa. nessun altro può farlo ma a questo non è data tanta attenzione. Oggi sanno, vogliono apparire, si fanno protagonisti attraverso i social, i media, i vari, senza sapere che cosa davvero hanno da comunicare, da dire agli altri perché non lo sanno neanche dire a se stessi. è come se fossero degli analfabeti della vita interiore che portano e volessero essere portatori di un grande annuncio tanto da doversi mettere in mostra. Spesso è veramente squallido il mondo che ne viene fuori ma non è responsabilità dei piccoli è piuttosto responsabilità di un mondo adulto che li sta utilizzando a scopi ben diversi da quelli di qualcuno che ami l'umanità e voglia il suo futuro positivo. Può sembrare molto grave questo che sto dicendo ma se un ragazzo che ha partecipato a un gruppo che ha violentato una ragazza piange, chiede scusa e poi immediatamente posta delle immagini per dire io sono popolare beh, cosa ha capito di sé? Cosa ha capito dell'altro? Si può dire davvero che abbia un'interiorità? Ma è il solo responsabile di non averla o è stato portato per strade in cui non ha potuto nemmeno immaginare di averla? Forse il mondo adulto dovrebbe farsi carico non solo di dare tutto quello che è possibile alle generazioni giovani ma di dare loro soprattutto il sé stessi il valore davvero della persona umana e credo non ci sia nessun altro che attribuisce un valore più grande all'uomo se non Dio che lo chiama figlio magari noi potessimo ritornare ad avere una religione che ti presenta un volto di Dio che si esprime così ma nell'Antico Testamento neanche da Gesù ma molto prima si dimentica forse una donna del suo bambino e forse forse a volte purtroppo dobbiamo dire di sì ma prosegue se una donna dovesse dimenticarsi di suo figlio tanto da non commuoversi per lui io Dio non ti dimenticherò mai il tuo nome è scritto sulla palma della mia mano che è una maniera estremamente commovente perché i bambini si scrivono le cose che ci dimenticano scrivono le cose che vogliono siano sempre presenti Dio che si presenta come uno che porta nella sua mano il palmo della sua mano il mio nome perché perché mi ama e per chi vuole che io sia felice misura dell'amore che noi riceviamo è misura anche di quello che siamo in grado di dare agli altri ora solo Dio può darci un amore infinito e noi esseri umani dovremmo vivere per dare amore alle altre creature umane prima di tutto il Signore ci dia la sua benedizione e ci aiuti a avere stima dell'amore vero il Signore sia sopra di te per proteggerti davanti a te per guidarti dietro di te per custodirti accanto a te per accompagnarti dentro di te per benedirti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen buona giornata grazie a tutti